Che cos'è la mafia? Provo a spiegarvelo con le parole con cui alcuni giovani della vostra età hanno cercato di descrivermela pur non conoscendola. La mafia è come la grandine, quando arriva in primavera distrugge tutti i campi. È vero, con la mafia non è possibile convivere, dove mette radici crea solo problemi, danni, tristezza. La mafia è come un'erba infestante, cresce dovunque e viene portata in giro dal vento, uccidendo le altre piante. E anche questo è vero. Il vento è rappresentato da politici e imprenditori che agiscono secondo logiche di convenienza e che legittimano i mafiosi, facendoli sentire importanti, utili al sud come al nord. Senza i politici, gli imprenditori, i professionisti che entrano in relazione con la mafia secondo logiche di convenienza reciproca, la mafia morirebbe per asfissia, soffocata. La mafia è come i piccioni sui campi dopo che i contadini hanno seminato. È vero anche questo. Pensate alle vittime dell'estorsione, costretti a pagare una quota mensile alla mafia con il frutto del loro lavoro. I mafiosi in questo caso si comportano come i piccioni che distruggono i terreni seminati, ma anche come i parassiti che vivono alle spalle della povera gente, contrariamente alla mafia che non produce nulla per il bene comune, ma solo per i propri interessi e per quelli dei suoi affiliati. Mafia è un termine generico, spesso utilizzato per definire varie forme di criminalità organizzata. Quando questa parola non è accompagnata da aggettivi si fa riferimento alla mafia siciliana, una potente organizzazione criminale che gode di consenso sociale, di relazioni con la politica, le istituzioni e l'economia. In altre parole, intreccia rapporti con persone che dovrebbero combatterla, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, funzionari pubblici, politici, preti e reinveste nell'economia legale i soldi accumulati con la violenza. In verità, mafia è un termine usato da chi la mafia la descrive dall'esterno. Loro, i mafiosi, preferiscono al termine mafia quello di Cosa Nostra, il vero nome dell'organizzazione nata in Sicilia nella prima metà dell'Ottocento. La mafia, o meglio Cosa Nostra, non è semplicemente una forma di criminalità, ma una cosa molto più potente, organizzata e pericolosa. Il suo obiettivo è quello di ottenere denaro e potere, per i quali usa la violenza e uccide, se occorre. Per definirla bastano solo tre parole, delirio di onnipotenza. Il mafioso ritiene di avere un potere assoluto che cerca di accrescere in ogni modo. Per combatterla seriamente bisogna metterne in discussione anche i miti. La mafia dell'onore e del rispetto non è mai esistita. Si fa chiamare sole, ma non fa luce.